buonasera ragazzi e bentornati oggi martedì 22 dicembre 2020 è una giornata molto importante per noi perché celebriamo inauguriamo diamo libero accesso al nuovo sito di partire per partire per nasce nel gennaio del 2005 come un blog di viaggi dove avrei raccontato per otto lunghi anni il mio giro del mondo in solitaria e dove ho scritto di tutto pensieri paure confessioni momenti avvincenti momenti di difficoltà superamenti di dogane non riusciti ho scritto di tutto da quando avevo 21 anni fino a quando avevo 28 e quei post sono pubblici ancora oggi poi dopo il ritorno in italia ho cominciato a rispondere alle domande di chi mi seguiva e quindi ho cominciato a scrivere guide in pdf rubriche articoli di giornale ho fatto interviste radiofoniche televisive sui quotidiani sui magazine di settore sulle riviste di settore poi mi sono impegnato nella pubblicazione dei libri ho diretto e prodotto un film chiamato le vie della seta e poi ho cominciato a organizzare eventi le moto tendate poi i motogiri con bivacco ed oggi partire per è uno dei più grandi siti non redazionali che aiutano i moto viaggiatori di tutta italia d'europa ma anche del mondo diciamo a conoscere questo mondo che si chiama il moto viaggio bene dopo diversi anni che mi ero ripromesso di fare questo restauro così importante di così tanto materiale che ho accumulato negli anni quando prima ancora di strutturare di far diventare partire per l'associazione culturale che è già da qualche anno e vi faccio vedere vi spiego questo nuovo sito con tutte le sue potenzialità un sito che guardo qui a destra nasce per motivare formare connettere e avvicinare i moto viaggiatori dando vita alla più grande community online e offline perché di fatto ci conosciamo online ma poi ci stringiamo la mano dal vivo durante i motogiri le moto tendate tutte le iniziative di partire per parleremo dei suoi contenuti vi farò vedere un po schematicamente come funziona e poi insieme apriremo il canale cliccando sull'ultasto che tiene tutti diciamo in sospeso per poi darvi libero accesso a questo nuovo sito il sito contiene consigli suggerimenti spunti che vi faranno ottimizzare risparmiare migliorare per pianificare programmare i vostri moto viaggi recensioni di prodotti che abbiamo acquistato provato per voi che recensiamo senza secondi fini ve li raccontiamo così come li abbiamo provati su strada raccoglie tutti gli eventi passati dal 2011 fino ad oggi perfino eventi di 5 6 7 anni fa che non sono mai stati pubblicati pensate oltre ovviamente la moto tendata 2020 che avete aspettato così tanto di vedere il blog completamente rinnovato alleggerito tutta la mia biografia sia professionale che personale tutte le mie moto le interviste e poi infine un'area rinnovata per il profilo per gestire tutte le vostre partecipazioni gli eventi tutto quanto informazioni sul tesseramento come funziona che tipo di vantaggi vi da a livello di moto viaggiatori ma non soltanto anche una nuova sezione con guide pdf gratuite da scaricare liberamente rubriche gratuite da scaricare gratuitamente e nuove tracce gpx organizzate non soltanto per tipo di strada asfalto on off e wild ma anche divise per regioni per cui lancio la sigla partiamo con questa lunga importante live sono veramente emozionato un po anche aiutato dal brindisi per cui stasera sono più allegro del solito ci vediamo dopo questo sono io mi chiamo jonathan encini sono un toscano classe 1983 e amo viaggiare in moto a 21 anni parto per il giro del mondo con in tasca solo 2000 euro in 8 anni visito 50 paesi e lavoro in 6 di questi per finanziarmi mi avventuro lungo le vie della seta fino in nepal vado a caccia di guad in islanda raggiungo capo nord con meno di 1000 euro e oggi a uno storico di mezzo milione di chilometri in 77 paesi racconto queste esperienze nei miei libri per adesso ne ho pubblicati 4 ma sto già scrivendo il quinto condivido la mia passione organizzando workshop motogiri con bivacco e mototendate a cui partecipano oltre 700 moto viaggiatori ho scelto di fare del moto viaggio il mio stile di vita e nel 2010 mi metto in proprio istituendo ride through adv che organizza moto tour, noleggi e spedizioni ed è rivenditore dei prodotti che uso nelle mie avventure i viaggi che organizzo mi portano spesso in giro per il sud america, asia ed europa dove condivido con altri appassionati come te i chilometri più belli della patagonia, dell'himalaya e di capo nord e quello che stai per vedere è il mio ultimo video, buona visione e se ti è stato utile condividilo, grazie bene eccoci qua, non guardate non ero così emozionato di fronte a voi per una diretta dai tempi in cui abbiamo iniziato durante il lockdown c'è proprio il batticuore perché qui dentro a questo sito c'è un lavoro veramente lungo, certosino ci ho investito veramente tanta energia, allora vi faccio vedere subito, prima ovviamente di entrare nel vivo volevo fare la mia premessa, siamo in 140 ma per chi si fosse collegato con me per la prima volta adesso c'è prima una piccola routine da fare, ovvero salutare i primi 20-25 di voi che sono lì e poi salutare chi ci ha mandato delle foto, dei selfie e poi entriamo nel vivo di questa spiegazione del nuovo sito va bene? e certamente lo faremo partire proprio adesso live, ho qui un nastro da tagliare per cui ci sarà proprio il taglio del nastro dopodiché siete liberi di aiutarci, non ve lo chiediamo supplicandovi ma vi diciamo ci potete aiutare condividendo questo link di questo sito se scoprite che in realtà abbiamo fatto un lavoro che vi è utile perché ci sono un sacco di contenuti da poter sfruttare, non soltanto adesso ma probabilmente a primavera, a marzo, aprile quando riprenderemo a girare in moto, comunque bando alle ciance ho un sacco di roba aperta che non dovevo tenere aperta, la chiudo subito e vediamo, allora innanzitutto vi faccio vedere questa cosa qui, guardate chiudo un po' di roba, che mi sono ritrovato all'ultimo minuto a fare gli ultimi ritocchi importanti allora, schermo sinistro, schermo sinistro quello che vedete qui non è nient'altro che il tasto vedete questo verde qui? appena clicco off il sito sarà visibile, ma aspettiamo, aspettiamo, va bene? innanzitutto facciamo la nostra routine, che è importante, e poi facciamo anche un brindisi allora, volevo salutare un po' di persone, ovviamente il periodo di Natale è molto intenso per chi regala i nostri libri al fidanzato, alla fidanzata, ai figli, ai mariti, eccetera, eccetera quindi abbiamo tante foto di molti lettori che hanno ricevuto già il pacco questo è un bene perché le poste ovviamente sono un po' in difficoltà in questo periodo specialmente con tutte le chiusure del covid qui abbiamo Alessandro con sud-est asiatico e partire per viaggiare qui abbiamo Andrea, che ringrazio ancora per avermi tirato fuori dal fiume quando sono rimasto incastrato dentro, con sud-est asiatico in moto qui abbiamo, in realtà, Antonio l'avevo già fatto vedere, ma non avevo fatto vedere la foto in moto ha provato il casco e ha acquistato, come sapete, da settembre sono rivenditore per l'Italia di Climb, il marchio che uso da due anni e Antonio ha comprato il Krios Pro che sta già provando con la sua bellissima supertenere bravo Antonio, poi facendo chiacchiere per quel completo che vede un po' datato da cambiare qui abbiamo invece, devo vedere i nomi, Carlo Carlo che tra l'altro mi sembra si è prenotato anche per il Caponord Wild qui abbiamo Igor, ciao Igor, con partire per viaggiare l'adesivo e la sua bellissima cross-tourer qui abbiamo Luigi e poi infine abbiamo Stefano Stefano che aveva già acquistato sud-est asiatico e partecipato al mio workshop online che è una nuova iniziativa che abbiamo fatto per portare conoscenza durante questo periodo di chiusura e adesso ha ricevuto anche via della seta in moto per partire per viaggiare e inoltre lui appare nel nuovo sito perché ha la felpa e quindi vedrete che ci sono sezioni dinamiche dove apparite anche voi bene, questo è quanto parto con i saluti di chi è qui davanti a me in questo istante vediamo un po' Michele Biancamano Diego Chanel Marchetto Multi 1002 Carlo D'Andrea ciao Carlo eri tu prima Antonio Lennas Marco Bino Gina Schuffer ciao Gina vado e torno in moto Vespone Robinson Daniel R Luciano Vallese Giacomino Vulcan 134 Walter Borsella Giuliano Rossi Porto on Wheels Giuseppe Siponelli potrei continuare all'infinito Pietro Ceccaroni e quindi vediamo un po' vediamo un po' Rocco Denaro Marco Bino ciao a tutti ciao a tutti allora siamo veramente a 8-9 giorni dalla fine dell'anno si spera che il 2021 inizi meglio di questo 2020 speriamo anche che il nuovo sito sia un modo di dimenticare il brutto che c'è stato quest'anno ma ricordare anche come siamo riusciti a tirare fuori il meglio dal 2020 nonostante la situazione ecco bei ricordi delle nostre dirette di aprile marzo maggio le prime uscite conoscervi stringervi le mani quindi non voglio considerare il 2020 un anno da dimenticare perché per molti aspetti per noi è stato veramente molto bello anche il fatto di fare una tendata con così tanti partecipanti in un anno così particolare è per noi una grande soddisfazione stasera vedrete anche le foto che vi ricordo sono state in parte curate da Flashbikers cioè Monica che è venuta appunto a fotografare l'altra parte delle foto invece è stata fornita dai partecipanti che hanno appunto scattato delle foto durante il periodo allora vogliamo iniziare? vi farò vedere faccio? ma si lo faccio dai in realtà quello che ho preparato per voi non è la visione live del sito perché poteva essere un po' dispersiva ho creato degli screenshot per spiegarvi un po' però la prima cosa che faccio è farvi vedere la versione live quindi andiamo eccoci velocemente allora questa è la versione live del sito questa è la home page c'è uno slider automatico che vedete riporterà sempre le notizie più importanti le notizie più recenti nuovi eventi, novità quindi vedete che è passato tracce gratuite quindi cliccando lì si accede subito alle tracce sconti e vantaggi che è uno dei punti forti di quest'anno per tutti i tesserati sono sconti con almeno 15-20 marchi e in più ne stiamo aggiungendo via via recensioni di cui vi parlerò molto approfonditamente stasera eccetera eccetera quindi questa è la home page scorrendo in basso vedrete tutta una sintesi di quello che potete trovare i contenuti più apprezzati, i contenuti più richiesti, i contenuti più suggeriti poi abbiamo un video di presentazione che è la sigla abbiamo una sorta di schematizzazione del mio curriculum in moto vedete qui 16 anni, 500.000 km una mappa interattiva dove cliccando su questi punti blu potete scegliere quale diario di viaggio leggere se le vie della seta, se l'Islanda, se il Sud America eccetera eccetera le foto di Instagram e poi fine questa è una home page molto semplice ma quello che vi faccio vedere in realtà oggi è tutto ciò che c'è dentro questo mondo molto molto semplice abbiamo voluto puntare sulla semplicità un impatto minimalista ma con informazioni chiare e sempre aggiornate quindi partiamo con le immagini che vi ho preparato adesso allora, le ho numerate quindi non dovremmo sbagliarci andiamo alla schermata a sinistra allora questa è l'home page per come ve l'ho mostrata prima badate bene perché adesso scorrendo queste immagini si attualizzeranno, aggiorneranno quindi andando avanti di un passo vedete che è rimasta in evidenza solo la barra centrale che è appunto quello slider che vi dicevo tutto il resto è un po' più opacizzato ecco in questo slider cambieranno periodicamente le informazioni che ci sono aggiornamenti, eventi, quello che vi ho già spiegato sulla barra sinistra invece troverete un menu a tendina chiamato moto iniziative moto iniziative è sempre presente in quel punto del menu perché saprete sempre lì dove andarlo a cercare qui ci sono tutte le cose che fanno parte delle nostre iniziative quindi dall'abbigliamento molti mi chiedevano ma dove sono queste magliette che vedo che i ragazzi ti mandano i selfie dove si acquistano, quindi lì trovate tutto gli adesivi, i film, le guide gratuite da scaricare poi dopo vi faccio vedere anche questi i libri, i motogiri con bivacco quindi tutte le iniziative che richiedono un download, un acquisto, una prenotazione sono tutte lì organizzate per categoria le trovate lì andiamo avanti allora se invece guardiamo il menu in alto accanto alla barra delle scusate abbasso questo perché effettivamente sono un po' accanto alla barra delle iniziative c'è un'altra che si chiama moto viaggio dove ho racchiuso tutti i consigli gli spunti, suggerimenti accorgimenti tutto ciò che ho imparato in questi anni un po' sulla falsa riga del manuale del moto viaggiatore ho racchiuso tutti i consigli per voi se siete dei neofiti, se avete un momento in cui volete ripassare degli argomenti qui ci sono tutti, divisi per 5 categorie motivazione, pianificazione, preparazione, vita in viaggio e moto itinerari quindi cliccando su ognuna di queste voci entrerete in un mondo ancora più approfondito con foto, video, link sempre aggiornati che vi danno una buona anzi una molto approfondita diciamo nozione per vivere il viaggio e quindi solo questa categoria qui è una probabilmente che racchiude il 60% con dei contenuti del sito quindi è molto 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 ricca di elementi per cui qui avete tanto tempo da studiare subito accanto in alto sempre nel menu in alto abbiamo il menu recensioni che anche in questo caso abbiamo diviso in tre categorie per te moto viaggiatore quindi tutto ciò che riguarda te come moto viaggiatore ecco perché abbiamo messo abbigliamento tecnico vivacqua avventura dati, apps e dispositivi foto e video navigazione probabilmente in futuro aggiungeremo altre voci in base ai prodotti che recensiremo per il momento sono questi per la tua moto invece abbiamo messo accessori borse morbide e rigide manutenzione pneumatici protezioni e supporti e poi sospensioni quindi potete ovviamente visitare le recensioni così in ordine cronologico per come sono state scritte e pubblicate però potete anche cercarle per categoria e infine moto modelli che sono tutte quelle prove di moto che abbiamo fatto e che non facciamo a livello redazionale perché arriva a Kawasaki ci da mille euro e dite parlate bene della moto no sono molto probabilmente sono le moto che abbiamo comprato che sono nostre e che facciamo diciamo analizziamo al pubblico di persone che stanno valutando quella moto se vi ricordate bene ho fatto anche degli esperimenti analoghi durante le live di aprile quando raccontavo le moto che ho usato è una cosa molto semplice è molto simile ecco qui infatti c'è un menu principale all'interno delle recensioni che è stato schematizzato con un'immagine un'immagine che riporta abbigliamento tecnico manutenzione navigazione la moto che è fatta da sospensioni protezioni borse accessori pneumatici e voi potete cliccare su quei più quei pallini bianchi più e vi si apre dopo ve lo faccio vedere e vi si aprirà la categoria quindi questo è un menu di navigazione semplificato che in realtà fa la stessa cosa che fa anche il menu di prima poi abbiamo una delle più grandi importanti novità di quest'anno abbiamo la diciamo la redazione dei recensituri ho tempo fa chiesto chi fosse interessato a contribuire a questo spazio gratuito delle recensioni scrivendo le proprie recensioni di prodotti che aveva comprato quindi anche lì in maniera molto trasparente e onesta e devo dire che ad oggi il gruppo è veramente valido e sostanzioso siamo in nove e qui vedete appunto Giorgio Riccardo Alberto Valentino Francesca Federico Valerio Andrea Pierluigi che insieme a me hanno contribuito per la maggior parte dei contenuti postando le loro recensioni quindi vedrete il loro nome nei prodotti che loro hanno acquistato e provato e recensito e sicuramente hanno in serbo altre recensioni per prodotti che non hanno ancora pubblicato e altri che probabilmente acquisteranno in futuro e proveranno in futuro questo è come si vede il menu delle recensioni organizzate per data vedete qui sei prodotti sono sei prodotti a caso quindi abbiamo un casco per l'abbigliamento tecnico abbiamo delle protezioni per la categoria di protezioni abbiamo un portacellulari con carica wireless per la navigazione abbiamo un tavolino pieghevole per il bivacco abbiamo una borsa morbida per la categoria a borse morbide rigide abbiamo uno stivale per la categoria abbigliamento tecnico e cliccando lì uno può leggere tutto quello che abbiamo scritto ma come l'abbiamo scritto queste recensioni volevamo unificarle tutte sotto uno stesso standard perché volevamo avere un approccio estremamente chiaro su quello che c'era da dire cioè lo scopo ultimo era vogliamo essere utili a chi legge quella recensione non al marchio che produce quel prodotto quindi se uno viene a leggere la mia recensione lo fa perché dice caspita io lo voglio comprare facciamo un esempio quel tavolino lì ma come funziona com'è per un moto viaggiatore quel tavolino andrà bene sarà facile caricarlo sulla moto quanto costa e chi l'ha comprato dice lo suggerisce vale la pena ci sono delle foto per vedere meglio come si mette sulla moto eccetera eccetera ecco vi faccio vedere come abbiamo scomposto ogni singola recensione quindi sono tutte scomposte allo stesso modo partiamo con un'introduzione al prodotto dove ognuno spiega come lo ha usato per quanto tempo dove l'ha portato perché è molto importante questo non sono recensioni su banco ma fatte su strada in questo caso sto usando una delle ultime recensioni che ho postato anche grazie all'aiuto di Alberto che ha dato il suo contributo questa è una recensione molto approfondita del Cryos Pro della Climb che è un casco dove ho scritto molte cose separate per categorie vi faccio vedere l'introduzione al prodotto dove dico di averlo usato per 30.000 km e un anno e mezzo questo è importante ai fini della recensione l'esperienza d'acquisto dove si parla di quanto costa i benefici che hanno i tesserati con questo tipo di prodotto se ce li hanno perché non tutti i prodotti che recensiamo sono scontati i colori disponibili le taglie disponibili il contenuto della confezione di questo prodotto le foto del catalogo dettagli sul comportamento del prodotto durante l'utilizzo dove abbiamo scritto io ho parlato dell'esteticità la leggerezza la versatilità se è silenzioso se è rumoroso ho anche aggiunto questa parte l'interfono action camera e microfonatura se parliamo di un casco noi motovigliatori vogliamo sapere se è un casco adatto per essere microfonato dall'action camera e se ci va anche l'interfono quindi sono tutti dettagli importanti per noi il confronto con altri prodotti simili vedete qui in rosso sono link ad altre recensioni già presenti nel sito il GVX One Tourer l'XLight 551 GT la GVX8 quindi li mettiamo in confronto con altri caschi simili che conosciamo parlo di un casco l'abbiamo fatto anche per le borse per gli stivali per le protezioni per gli pneumatici l'abbiamo fatto per tutti e poi abbiamo pro e contro di quel prodotto si cerca di essere abbastanza obiettivi si cerca anche di considerare che siamo tutti diversi quindi ognuno è soggettivo nel dare un'opinione però vedete che c'è in verde i punti forti del prodotto e in rosso quelli meno forti del prodotto poi abbiamo la conclusione che consigliamo in definitiva questo prodotto lo consigliamo altri motoviaggiatori sì o no perché boh forse poi abbiamo il link per l'acquisto di questo prodotto se il prodotto è su Amazon il clicchi lì ti porta su Amazon se il prodotto è scontato per il tesserato ti porta alla sezione del tesserato per poter usufruire dello sconto se il prodotto si compra sul negozio nativo tipo Decathlon ti porta sulla pagina di Decathlon quindi vi guida completamente in questa sorta di panoramica del prodotto e poi le foto personali di chi l'ha usato in questo caso il CRIOS l'ho recensito io sono le foto degli utilizzi che ne ho fatto io bene usciamo dalla parte recensioni e andiamo avanti sempre nella parte in alto a destra c'è la categoria eventi questa categoria non nasce per farvi aderire agli eventi per farvi aderire agli eventi c'è la sezione iniziale di moto iniziative questa è la sezione dove pubblichiamo gli eventi cioè quelli dove siete stati anche voi quelli che abbiamo fatto organizzato o ai quali abbiamo partecipato dove magari vi abbiamo conosciuto quindi molto spesso mi chiedevano dopo EICMA dopo Verona dopo la tendata ma mi mandi la foto dove ci siamo fatti i selfie non la trovo ecco il posto dove le cercate le trovate adesso è questo abbiamo gli eventi divisi per motogiri e bivacco dove ci siete anche voi mototendate dove ci siete anche voi i workshop dove ci siete anche voi i gruppi regionali di Facebook perché fanno comunque parte degli eventi perché vi servono per partecipare agli eventi in gruppo scendendo con persone della stessa città altri eventi analoghi motoraduni motosaloni scuole perché io vado a parlare anche alle scuole e poi prossimi eventi è quello dove troverete sempre l'evento che sta per avvenire prossimamente quindi entrando in motogiri e bivacco vi troverete davanti a questo ogni foto rappresenta la copertina di un album fotografico dove ci siete anche voi magari sono eventi a cui avete partecipato quindi vediamo qui l'ultimo è stato il motogiro wild del 2 novembre prima della chiusura del lockdown e lì eravamo in 6 o 7 c'era anche Giorgio come vedete quindi lì troverete le foto troverete i video di chi ha partecipato potrete commentare potrete scaricare le foto senza problemi inoltre se l'evento vi piace volete più informazioni cliccando sul tasto blu entrerete nel gruppo telegram di quel tipo di evento vedendo ah qui o qui mi sa che ho visto un errore ho fatto un errore mi sa di sì dopo lo sistema quel vedi le foto non ci dovrebbe essere comunque poi lo sistemiamo dovrebbe essere in realtà partecipa cliccando su partecipa cosa succede? siete reindirizzati alla pagina dove trovate i motogiri bivacco a cui vi potete prenotare e poi infine i gruppi regionali che sapete già sono quegli altri mototendate qui è la stessa cosa dove vedete il gruppo telegram partecipa a gruppi regionali e sotto c'è una foto per ogni album tra cui il nuovissimo e attesissimo album della mototendata 2020 ma la sorpresa di questa categoria è che abbiamo tirato fuori foto che erano inedite da 5 anni 6 anni 7 anni quindi vi consiglio appena avremo aperto i rubinetti di questo sito di andarvi a vedere tutti gli eventi dove siete stati perché troverete foto che sono state inedite per tanto tempo workshop anche qui tutti i workshop che ho realizzato a nome di partire per in varie realtà motoclub aziende ristoranti attività insomma trovate tutto l'archivio di tutti diciamo i workshop a cui ho preso parte attivamente in tutte le realtà italiane e estere dove sono stato diciamo chiamato a presentare e poi una categoria a cui tengo molto quella delle scuole che è sempre stata fatta senza scopo di lucro perché i ragazzi meritano un minimo di orientamento senza che ci si debba lucrare e quindi sono tutte le iniziative di scuole che mi hanno invitato a parlare agli studenti fra cui anche l'ultimo che è stato il primo diciamo workshop alle scuole online su su questo piattaforma di videoconferenze dove c'erano pensate 400 studenti collegati con me e lì vedete il video di questo intervento bene usciamo dalla categoria eventi tornando in alto nel menu trovate blog il blog non è altro che l'insieme di tutti gli articoli scritti molti dei quali come vedete sono in realtà gli ultimi video postati su youtube ma ce ne sono talmente tanti di articoli qui parliamo di 16 anni di blogging dove trovate anche roba molto molto datata ricordatevi 16 anni fa non avevo 37 anni ma ero un ragazzino quindi a volte che scrivo qualche cazzata l'ho scritta anche per cui insomma non vi meravigliate e poi la categoria jonata che è quella più incentrata sulla parte personale e professionale quindi qui ho messo tutto ciò che era sparpagliato un po' su tutto il sito e l'ho diviso anche questo in 5 grandi categorie la prima è la personale la seconda è viaggi la terza è tutte le moto la quarta è opere e la quinta è curriculum c'era bisogno di fare un po' d'ordine perché il materiale che diciamo pubblicato era un po' disorganizzato era sparso non era ben curato e quindi ho fatto così ve ne faccio vedere solo una per ogni categoria perché poi quando sarà possibile entrare nel sito fra qualche minuto andrete a cercare voi quello che vi interessa di più nella categoria personale vi faccio vedere come si presenta la biografia la biografia non è altro che uno schema cronologico di tutti i momenti professionalmente importanti che caratterizzano il mio impegno a partire per qui vedete l'ultimo del 2020 dove riassumo brevemente il 2020 in quello che è stato fatto quello che è stato organizzato le iniziative eccetera eccetera entrando in biografia vedrete dal 1993 fino ad oggi se non vado errato anzi dal 2001 scusate al 2001 la seconda categoria è viaggi dove trovate tutti i miei diari di viaggio che sono stati tutti ripuliti risistemati e riorganizzati per tappe quindi adesso sono tutti divisi per tappe per esempio capo nord che era l'anno scorso è la tappa 9 perché è il nono grande viaggio che ho fatto all'interno di quella categoria trovate già le varie tappe 1, 2, 3, 4, 5 oppure trovate quella principale dove appare questa mappa interattiva dove cliccando su questi tasti blu avete la possibilità di accedere subito a quella categoria non è altro che un menu interattivo di quello che avete visto anche prima guardate eccolo va lo vedete qua su viaggi viaggi tappa 1 tappa 2 tappa 3 4 5 6 7 8 9 le stesse cose che cliccate sulla mappa sono riassunte anche nel menu e quindi ad ogni categoria cliccata vi fa vedere una foto di anteprima vi riassume i chilometri fatti i paesi fatti in quella categoria poi potete tranquillamente cliccare per leggere i blog di quella categoria andiamo avanti tutte le mie moto tutte le mie moto è una categoria dedicata al colore che mi hanno spesso scritto per dirmi ma come mai il GS non te lo compri beh sappiate che il GS fa parte del mio parco moto perché ce l'ho lo uso e qui vedete anche il BMW 1200 GS LC e AC in questa categoria vi faccio vedere adesso se ne parla e le vedete anche c'è però in alto la foto della moto attuale che sto usando quindi qui vedete la foto della moto che ho equipaggiata con l'equipaggiamento attuale dove cliccando su quei tasti blu vedete esattamente che accessori uso perché è una delle domande più richieste ma che cosa sono quelle borse che cerchi usi lì che paramani hai là che barre sono quelle e quindi per rispondere ho fatto questo menu interattivo dove cliccando potete conoscere i prodotti lì scorrendo in basso invece vedete qui ho messo proprio la foto del GS in che anno usavo quella moto lì che cosa ho fatto con quella moto lì quindi qui avrete un bel po' da incuriosirvi poi abbiamo nel menu opere che è l'altra categoria ci sono prose poesie pensieri libri e film perché chi è stato più attento e mi seguiva negli anni scorsi sa che prima di scrivere libri scrivevo anche altre cose che non erano diciamo ben raggiungibili sul sito erano un po' imboscate proprio perché erano scritte in un altro periodo della mia vita ed erano molto molto introspettive anche troppe quindi se siete curiosi qui trovate non so aforismi scritti da me quando avevo 18 anni poesie scritte in particolari momenti insomma potete andare a leggere e poi l'ultima della curriculum è quella delle interviste qui ho fatto veramente un lavoro esagerato perché sono andato a cercare le interviste uscite in questi ultimi 16 anni su quotidiani riviste magazine web radio televisione e l'ho messe tutte lì trovate tutto quelle fotografiche sono ovviamente di articoli sotto ci sono i video embeddati da vimeo da youtube con le interviste con radio capital radio kiss kiss radio dj in rai alle falde del chimangiaro su italia 2 con parodi ce n'è 2000 insomma qui c'è un bel po' di materiale che ho messo in ordine poi veniamo alla parte del tesseramento sempre torno un po' indietro nel menu no non lo trovo più vabbè in alto dopo dopo la categoria a me dedicata c'è quella del tesseramento quindi qui trovate noi siamo associazione da 2 o 3 anni ormai e trovate tutte le informazioni che ci vengono spesso chieste sul tesseramento perché come si fa dove si fa quanto costa quanto dura che cosa ci posso fare con questo tesseramento come funziona ecco qui abbiamo spiegato tutto e vi faccio vedere in quei titoli evidenziati in blu più o meno i contenuti che troverete è una pagina molto lunga molto dettagliata quindi qui c'è che cos'è l'associazione culturale partire per come ci si tessera questa associazione culturale gli sconti e i vantaggi da tesserati cosa dicono i membri che sono già tesserati già dall'anno scorso dall'anno prima che hanno partecipato attivamente come tesserati alle nostre iniziative quanto costa la quota di tesseramento quest'anno i prodotti che includono la quota di tesseramento e poi l'ultima parte di questo sito nuovo è il profilo che è stato snellito alleggerito migliorato ed ovviamente è importante che ricordiate che tutto ciò che riguarda il vostro tesseramento adesso è lì dentro c'è all'interno del vostro pannello di controllo oltre ad esserci gli ordini il profilo download gli indirizzi la lista dei desideri tutto questo qui c'è anche tutto ciò che riguarda il tesseramento chi è tesserato solo entrando qui dentro troverà il gruppo telegram privato per i tesserati gli sconti con i marchi che ci hanno dato gli sconti come tesserati tutto quanto tutto quello che è inerente al tesseramento è nel profilo nel pannello di controllo inoltre adesso torniamo al menu delle moto iniziative che adesso scompongo vedete che in alto c'è abbigliamento dove abbiamo messo tutti i prodotti che è possibile regalarsi per supportarci gli adesivi che vedete qui tra quelli in regalo e quelli che si possono acquistare i film dove trovate il trailer delle vie della seta e il link per acquistarlo è sempre in streaming le guide gratuite che se ne sono aggiunte due di quelle che già erano presenti prima quindi le trovate qui le potete scaricare subito sono gratuite sono i pdf ve lo potete controllare tranquillamente i libri dove trovate ovviamente quelli che sono già pubblici e troverete una sorpresa abbiamo già messo giù una bozza dei libri che usciranno nei prossimi anni perché ci sono ancora sei libri che devono uscire quindi lì troverete un'idea del titolo e di quando escono questi libri moto giri con bivacco che sono appunto separati per tipo di strade trovate asfalto on off e wild e anche un richiamo rapido per le foto delle precedenti edizioni che però avete visto anche nella categoria eventi poi abbiamo moto tendate che abbiamo diviso per moto tendate autunnali invernali primavera estate e anche qui trovate i richiami per le precedenti edizioni che però potete trovare anche su eventi come abbiamo fatto a vedere prima infine abbiamo le mi sa che ho saltato un pezzo sì vabbè non si vede ma ve lo spiego io le rubriche gratuite che sono di così di a sfondo diciamo a sfondo narrativo su esperienze di viaggio che ho fatto quando facevo il giro del mondo in moto abbiamo il richiamo sempre per la parte del tesseramento abbiamo le tracce gpx che spero eccole qui le tracce gpx che vedete qua che sono divise in asfalto on off wild e grandi viaggi questa è diciamo la quarta categoria ma all'interno scoprirete che sono anche divise per regioni per cui sono molto più facili da navigare sono state tutte ripulite alleggerite riparate perché prima non si potevano alcune non si potevano leggere e stiamo ancora aggiungendone altre abbiamo ancora 30 in cantiere da aggiungere e siamo adesso con quel tasto giallo siamo in grado di permettervi di avere un canale diretto con noi per mandarci le vostre tracce che poi verranno rifulite e messe su perché questo è tutto ovviamente materiale gratuito che serve per costruire la nostra community per cui chi le vuole condividere è liberissimo di farlo e dulcis in fundo abbiamo gli workshop che sono quelli online e quelli presenziali qui trovate appunto i richiami per poterli richiedere o poter partecipare o potervi prenotare eccetera eccetera finiamo con finisco con la visualizzazione di come appare il menu in modalità cellulare perché è importante perché vedete che appunto nella modalità cellulare tutto il menu principale sparisce e avete in alto queste tre lineette piccolissime che vi permettono di navigare il sito anche da cellulare senza problemi tant'è che cliccando lì avrete due menu paralleli uno che dice menu dove vedete le voci che vi ho fatto vedere prima blog moto viaggio recensioni se uno clicca su recensioni poi si abbassano per te la moto per il moto viaggiatore per i modelli eventi giornata incini tesseramento e profilo e poi l'altro che è iniziative che sono quelle che abbiamo appena visto quindi è tutto organizzato anche per l'uso con il cellulare e vedete qui abbigliamento adesivo fin guido va bene basta ho parlato troppo torniamo qua siete pronti? allora rispondo a qualche domanda e poi facciamo partire il bambino dai siete pronti? andiamo un po' siamo 220 allora adorerai partire per live va bene comunque ci abbiamo lavorato io mi sono impegnato molto e poi devo dire anche grazie ai ragazzi della relazione che hanno fatto sì che questa categoria in cui credevamo molto fosse ricca fin da subito e ben curata perché loro non è che hanno non è che hanno fatto un lavoro tirato via e basta ci sono ritornati sopra hanno fatto delle correzioni hanno controllato il loro lavoro quindi hanno fatto veramente un ottimo un ottimo lavoro sono contento ringrazio veramente perché tutti quanti tutti quanti hanno fatto la differenza vedo anche qui con noi flashbackers che è Monica che è una giornata wow che lavorone sembra davvero bello adesso se non ci sono domande vi faccio accedere siete pronti? ovviamente non vi chiediamo niente vi chiediamo solo di solo di condividere se vi fa piacere per noi è una grande soddisfazione ci basta anche se mettete su facebook il sito link lo fate partire scrivete qualcosa non importa non costa niente così facciamo girare un po' questo sito nuovo dai sul sito Johan Butchler sul sito non c'è un forum? allora il forum l'abbiamo tolto da quando facebook ha preso piede abbiamo dei gruppi regionali e quindi il forum non esiste più perché facebook è assai più diciamo mainstream è più usato più conosciuto ecco perché il forum vecchio stile ormai purtroppo anche se ci abbiamo creduto fino in fondo l'abbiamo tenuto per fino agli ultimi 4 anni 4 anni fa ce l'avevamo ancora ma non lo usavo quasi nessuno va tutto su facebook ormai quindi ci siamo adeguati ecco ottima domanda vado e torno in moto le credenziali di prima sono ancora valide? sì i vostri account sono ancora validi probabilmente vorrete aggiornare la password questo non importa però è tutto ancora come era prima abbiamo semplicemente trasportato il vecchio sito nella nuova piattaforma e aggiornato quello quindi non abbiamo perso niente ci sono addirittura i vostri vecchi commenti c'è tutto le vecchie recensioni è rimasto tutto va bene? apro? apro il rubinetto? ci date un segno di vita appena siete dentro commentate qualcosa andate dove sono le vostre foto scrivete un commento fateci vedere che ci siete fateci capire che entrate dai va bene? Roberto, Michele, Nosferato ci siete? siete pronti? io sono molto emozionato allora io parto lo faccio insieme a voi schermata a sinistra siete pronti? allora guarda allora ora io clicco qui off clicco qui questo tasto blu e il sito è live siete pronti? 3 2 1 via allora vediamo ci mette troppo come mai ci mette così tanto a salvare questa cosa? teoricamente siamo live facciamo una prova subito che emozione partire per lo apro da un altro browser vediamo vediamo ora dice il sito non esiste più e invece esiste eccolo lì vai siamo live benvenuti ora rimango qui un po' con voi perché bisogna Ile aiutami da tagliare il nastro allora faccio così benvenuti su partire per vai ho tagliato eee olè ci siamo siamo live auguri tutti stanno scrivendo auguri auguri si fai 3,2,1 come a capodanno 3,2,1 oi oi dai benvenuti allora leggete le recensioni dei ragazzi commentate fate fate tutto 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 dovrebbe essere tutto funzionante io credo spero provo un po' anche te entra dal cellulare su partire per ah scusa la rubavo Leonardo allora niente come non va non mi dire che non va dai datemi conferma si riesce a entrare come non va si che va io sono entrato ora no non mi dire così che va o non va qualcuno mi dà conferma c'ho già il panico adesso va o non va come impallato no non è impallato è impossibile no non ci credo dai mi state facendo uno scherzo a me non va mi sa che siamo troppi il sito va no va va perché quanti siamo live siamo 200 quindi c'è 200 c'è una ricetta della trota salmonata lo state impallando voi adesso mi sa cosa devi fare quello della mamma questo cosa no vabbè a parte il video c'era dove c'è la irom ok google vediamo un po' in base al sito trecani è partito zit zit è partito da solo google ha fatto allora www provando al cellulare partire per .it ho pigiato qui dal cellulare non va che bell'esordio guarda meglio di così non poteva andare e a me mi funziona tutto da chrome non carica la pagina che bei momenti è tutto bellissimo ma come non va allora se mi parlavo di brutto io l'ho aperto ragazzi c'ho il sito qui davanti cioè fino ad ora ve l'ho fatto vedere voglio fare una cosa ok google voglio accendere tutti i google dei vostri cellulari ok google ok google ora va meno male ecco alcuni risultati è partito anche qui scusate si mette un po' a caricare perchè siamo a 2000 comunque anche sul cellulare dell'elenia non va vabbè senti prendiamolo come un segno buono dai prendi prendi facciamo che l'abbiamo intasato che siamo tutti contenti comunque ragazzi ci ho lavorato tutti i giorni è andato fino ad ora quindi probabilmente il problema è non carico eh vabbè allora vuol dire che siamo troppi fammi fammi subito controllare non va neanche da telefono vabbè allora allora classico classico intanto non poteva andare peggio di così vediamo un po' probabilmente il server non regge tanto traffico ma speriamo aperto ora ok qualcuno è riuscito a entrare c'è tipo in buttafuori è che sto pagando un buttafuori su partire perchè va da selezione eh mi va provate boh io capisco come mai a voi no non apri menu ok google ok google come fa come bisogna dire apple siri ok siri ci sono tantissime cose su zitta è partito tutto sì sì comunque è lentissimo vediamo un po' fammi vedere se riesco a sistemare velimir sto scrivendo al mio livello per di fiducia buh tanto scritto vediamo se si risolve speriamo sia un problema di traffico 56k ok siri oh ora sembra che funzioni non so che è successo ora va no no mi ha risposto subito ok google hey siri ok google hey siri non mi fa allora vediamo un po' dai la risolviamo insieme sta cosa non ci buttiamo giù d'animo anche perché il server è nuovo è tutto super potentissimo vediamo un po' ok vabbè che proprio classica cosa cioè lavori due mesi e mezzo per questo giorno e poi ora sul cellulare me l'ha aperto per esempio vedi è diesel Marco Bino ha scritto siamo in troppo entriamo uno alla volta no va tutto piano piano non ci assembriamo assemblamenti però alcuni di voi va alcuni non va comunque sentite siamo sicuri che sarà un problema di c'è troppa fila non lo so meglio funziona oh tutti andate a leggere a leggere come mai avevo i gs e quelle poesie di cui vi ho detto che Paolo Vivona io lo vedo benissimo qualcuno è entrato chi entra solo chi è negativo al tampone io sul cellulare ci sono quindi teoricamente sì ma tranquilli ah tra l'altro tra l'altro aspetto un attimo è una cosa che volevo dire a uno di voi ma ora me l'ero scritto su un foglio e non lo trovo più eccolo qui Marco Marco Bino sei presente ho letto il messaggio prima Marco ci sei Marco alza la mano devo fare una domanda cerchiamo cerchiamo il signor Marco Bino è presente allora Marco Bino se la tua mail finisce con 1976 chiocciola gmail sappi che sei riuscito a sgattaiolare per primo dentro al nuovo sito e te lo sai anche se non hai detto nulla e ti sei tesserato sei il primo tesserato 2021 quando ancora il sito non era finito quindi io non so come ci sei riuscito però abbiamo ricevuto il tuo tesseramento il 12 dicembre 2020 ma alle 21 e 31 quindi il primo il primo tesserato dell'anno 2021 è Marco Bino mi dispiace ha battuto tutti ok meno male vedo che piano piano riuscite a entrare tutti sarà stato un momento di congestione va bene allora Marco dico a te qualcosa che interesserà anche agli altri ovviamente il sistema il sito nuovo ha una piattaforma molto sofisticata per il tesseramento è tutto nuovo l'abbiamo acquistata quest'anno e sarà il tuo abbonamento sarà attivo dal primo gennaio quindi anche se adesso tu vai nel tuo profilo ti dice che il tesseramento è in fase ritardata cioè è sospeso fino al primo gennaio dal primo gennaio un po' e vedrai tutto ok se funziona Francesco Poli allora la tua domanda è risposta nella pagina di tesseramento quindi anziché diciamo usare questa live per spiegarti un'ora tutte queste cose che ti dico abbiamo scritto tutto lì quindi troverai la risposta sicuramente Diego sul mac la home page è come quella da cellulare allora si dipende dalla risoluzione del tuo schermo però possiamo fare qualcosa vediamo un po' ora mi è saltato tutto anche a me guarda guarda come appena ho messo live va bene dai a pensalo cioè è andato liscio come l'olio tutti questi due mesi e mezzo proprio stasera boom lo prendo lo prendo come un lo prendo come un buon segno vuol dire che se siamo tanti abbiamo mandato abbiamo intasato tutto questo dice Johan ha scritto sembra un tenere molto lento il sito tardi grazie Grazie a tutti. Grazie. Vediamo un po'. Allora, sui pad non carica. Valerio pin, oh, ora va, per esempio. Ora è ritornato tutto normale, controllate un po'. Allora, questo è a posto. E' in rodaggio, non va tirato, due piani di miscela, 3%, poi gasse. Giovanni Verducci, ci si può tesserare ora? Sì, da stasera sì, l'attesseramento da stasera in poi è valido per il 2021. Sì. Ora sembra andare, dai, allora vi lascio godere di questa prima vista. Poi ovviamente quando da domani entreremo nei momenti libri dal lavoro così, credo non ci sia un problema. Però ho fatto talmente tanto... Tanti annunci su questo sito che usciva alle 9 e mezzo, che probabilmente siamo veramente in tanti. Io non riesco neanche a vedere quanti siamo adesso, ma... VITX, vediamo un po'. Con calma trovi tanto di roba da leggere, ce n'è tanta. E quindi troverete tutto... Tutto molto di intrattenimento, tutto... Nei prossimi giorni. Allora, vediamo un po', voglio andare proprio a vedere... Ok, quindi vedo che molti di voi sono entrati... E... Bene, funziona la... Lasciamola così, lasciamola che ora funziona, ve lo lascio vedere, toccare, annusare un po', Poi tanto ci sarà modo di usarlo, anche nei prossimi giorni postare cose nuove, recensioni nuove... E quindi avrete modo anche di giocarci. Ci poteva stare, eh, una cosa così, che l'abbiamo... Ha fatto aspettare così tanto, sta diretta del lancio del sito, che è anche un complimento il fatto che si sia bloccato all'improvviso. Non era mai successo, va bene. Ragazzi, che dire, sono le 10 e mezzo, siamo anche stati in orario. Godetevi il nuovo sito, grazie per essere stati qui oggi. Oggi siamo stati un 200 circa. E quindi ora aspetto solo che possiate sfruttare le informazioni sul nuovo sito, scaricare tutto ciò che volete scaricare. Tracce, guide, tutto quello che volete. Leggere perché no le nuove recensioni, ci fa solo piacere. E ci vediamo giovedì con la prossima... No, giovedì no, è Natale. Aspetta. Giovedì è la vigilia, no, giovedì no. Giovedì faccio forca, non vengo. E manderò un messaggino. Saluto tutti quanti, anche Monica, Vedogina, Buzzo, Giovanni Verducci, Edoardo Facci, Federico Rodi, Marcello. Saluto tutti. Grazie. Questo è il miglior modo che avevamo in salvo per voi di finire il 2020 e il miglior modo probabilmente di iniziare il 2021. Andate in gamba, grazie a tutti i ragazzi della recensione, vedo Riccardo e forse anche gli altri ragazzi. Poi con loro ci sentiamo in un secondo momento. Ciao. Come faccio a spengere? Ah no, la sigla, la sigla, scusa. Questo sono io, mi chiamo Jonathan Encini, sono un toscano classe 1983 e amo viaggiare in moto. A 21 anni parto per il giro del mondo con in tasca solo 2000 euro. In 8 anni visito 50 paesi e lavoro in 6 di questi per finanziarmi. Mi avventuro lungo le vie della seta fino in Nepal, vado a caccia di guadi in Islanda, raggiungo Caponord con meno di 1000 euro e oggi ho uno storico di mezzo milione di chilometri in 77 paesi. Racconto queste esperienze nei miei libri, per adesso ne ho pubblicati 4 ma sto già scrivendo il quinto. Condivido la mia passione organizzando workshop, motogiri con bivacco e mototendate a cui partecipano oltre 700 motoviaggiatori. Ho scelto di fare del motovaggio il mio stile di vita e nel 2010 mi metto in proprio istituendo Ride Through ADV, che organizza mototour, noleggi e spedizioni e da rivenditore dei prodotti che uso nelle mie avventure. I viaggi che organizzo mi portano spesso in giro per il Sud America, Asia ed Europa, dove condivido con altri appassionati come te i chilometri più belli della Patagonia, dell'Himalaya e di Caponord. E quello che stai per vedere è il mio ultimo video, buona visione e se ti è stato utile condividilo. Grazie. Grazie.